Destruggile! Destruggile! Signori, voglio un incontro pulito. Vuole un combattimento regolare. Quando dico via, si combatte. Quando dice via, si combatte. Quando dico pausa, è pausa. Quando dice pausa, si fa pausa. Dovete seguire le mie istruzioni per tutto il tempo, è chiaro? Dovete seguire le sue istruzioni per tutto il tempo. Ti finisco con soli due colpi. Tornate ai vostri angoli. Sarà come bere un bicchiere d'acqua. Distruggilo. Maestro Ip, colpiscilo per bene, come hai fatto con me? È troppo facile colpire lei. Spiritoso. Stanno continuando a studiarsi in un lato. Come on! Come on! Come on! Grazie a tutti. 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 3, 4, 5, 6, 7, 3, bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.